Buongiorno, ben ritrovati. Vi presento le riviste di Altro Consumo di ottobre, in distribuzione proprio in questi giorni. Questo mese abbiamo inchieste in salute. Partiamo da inchieste. Come tema di copertina abbiamo scelto l'annuale indagine sui supermercati. Abbiamo messo sotto la lente più di 220.000 prezzi tra iper, supermercati e discount in 70 città italiane. All'interno della rivista trovate la classifica su base nazionale e le graduatorie città per città. Quindi è uno strumento, è una guida molto utile e pratica per individuare dove andare a fare la spesa per risparmiare fino a 1.700 euro all'anno. Per quanto riguarda in salute, il tema che abbiamo scelto per la copertina è un'indagine svolta sul fascicolo sanitario elettronico. In sostanza siamo andati a vedere a che punto è la digitalizzazione del sistema sanitario in Italia per scoprire che sono ancora tante le regioni, troppe le regioni, nelle quali siamo molto indietro sotto questo aspetto. Vi segnalo qualche altro argomento delle due riviste, su inchieste in particolare il test sulle creme spalmabili alla nocciola e le valutazioni date dai consumatori ai fornitori di energia elettrica. Su In Salute invece tra gli altri articoli vi segnalo il test sulle creme antirughe e un articolo che fa il punto sullo stato relativo alle ricerche sul vaccino anti-Covid. Bene, vi ricordo come sempre che le riviste sono scaricabili in formato digitale dal nostro sito o tramite l'app in edicola. Lasciateci come sempre i vostri commenti, buona lettura, ci sentiamo alla prossima.